Si è tenuto presso l'ambasciata d'Italia a Londra l'importante incontro dedicato alla lotta contro il cancro al seno. Prevenire è vivere. La lotta contro il cancro al seno inizia con la prevenzione. Si è parlato di tumore al seno e non solamente dei possibili trattamenti sia di tipo non chirurgico che chirurgico, ma anche della prevenzione che è possibile effettuare e della diagnosi precoce, che ha un ruolo estremamente importante per questa patologia. L'evento, organizzato da dottore London e Italian Medical Society of Great Britain, ha visto la partecipazione di numerosi esperti e un pubblico attento. Durante l'incontro si è sottolineata l'importanza della prevenzione come arma fondamentale nella battaglia contro il tumore al seno, una delle forme più comuni di cancro tra le donne. Il dottor Nicolò Battisti ha offerto una panoramica aggiornata sui più recenti approcci terapeutici. Trattamenti che si sono evoluti in maniera straordinaria negli ultimi dieci anni e che ci hanno adesso portato a offrire a pazienti non solo più chemioterapia o terapia organale, ma anche tutta una serie di trattamenti a bersaglio molecolare. Mentre la dottoressa Barbara Faisola ha evidenziato l'importanza della diagnosi precoce come chiave di una prevenzione efficace. Sopra i 40 anni la mammografia e l'esame sicuramente di prima battuta e l'ecografia nelle donne al di sotto dei 40 anni o la risonanza magnetica di nuovo nelle donne che abbiano delle mutazioni genetiche. Infine il dottor Fabio Rapisarda ha illustrato i progressi nelle terapie oncologiche e le sfide che la medicina moderna si trova ancora ad affrontare. La serata si è conclusa con una partecipata sessione di domande e risposte, in cui il pubblico ha avuto l'opportunità di interagire direttamente con i relatori. Parliamo di neoplasia al seno, che è una neoplasia tipicamente femminile, che rappresenta il 30% delle neoplasie nella donna. È ancora un tumore che ha un'alta mortalità e è per questo che la diagnosi precoce ripesta un ruolo fondamentale. Un evento di grande successo che ha contribuito a promuovere la cultura della prevenzione, elemento essenziale per ridurre l'incidenza del tumore al seno e migliorare le prospettive di cura. Segui Complitaly sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Complitaly Plus. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok oppure sul nostro sito www.complitaly.uk. Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Complitaly TV, il tuo canale sempre.